Benvenuti sul canale RPG Passione Games, nuova angolatura con la webcam, l'ho messa qui semplicemente perché non si vede, ne ammazzala dove l'hanno messa prima, un gioco di luci si vede decisamente meglio, forse sono un pochino più storto, cercherò in qualche modo di migliorarmi e di migliorare ancora la qualità di questi video. Allora, innanzitutto, come sempre, io ringrazio tutti gli amici del canale che si sono divertiti in questi ultimi video, questa settimana è una settimana un po' più particolare, diciamo che innanzitutto, diciamo, siamo in attesa dell'uscita di Starkey, quindi come serie momentaneamente faremo quello, o perlomeno proveremo a fare quello. Durante questa settimana qualche video uscirà, extra FIFA, forse anche qualcosa di eFoot, ma forse non lo so perché anche football, come avete visto, sta un po' cambiando di giornata in giornata, ma non è ovviamente questo il video per parlare dell'alternativa a FIFA, se si può parlare dell'alternativa. Episodio del giovedì, anziché mercoledì, quindi si sta, si va in onda il giovedì, si torna un po' come durante le feste di agosto, agustiane si dice, agustiano, e ci si sta avvicinando a grandi passi al FC24, a proposito, non avete visto moltissimi di voi, se non l'avete visto andate a vedere, il video che ho dedicato alla, diciamo, la mia esperienza di acquisto con un minimo, con un minimo, proprio minimo, minimo di risparmio, quindi la playlist è dedicata, che è la playlist FC24, quindi siamo già al debutto con il nuovo titolo di IA, che dire, finiamo la nostra carriera, siamo, abbiamo passato più di 80 episodi, non mi era mai successo, soprattutto non mi era mai successo anche di arrivare con una squadra come il Com, squadra, tra virgolette, che non aveva grandissimi giocatori, così, fuori classe, a arrivare secondo in classifica nel campionato a una modalità campione, qualcuno tempo fa mi chiese qual'era la modalità, giochiamo a modalità campione, con le slide, si dice slide, comunque le modifiche suggerite dagli amici del gruppo Carriera, FIFA Carriera, che ora si chiama in un altro modo, ma comunque tanto se qualcuno è interessato a vedere queste slide, magari me lo chiede nei commenti e ve le faccio vedere. sono slide che ovviamente amici del canale, amici del gruppo di FIFA Carriera, almeno all'inizio puntualmente aggiustavano un portiro perché effettivamente servivano per avere una qualità di gioco decisamente migliore e quindi loro si sono prodigati. Poi sull'ultimo ovviamente anche no, perché insomma avete visto, a proposito di settimana faremo anche un video sui vari giocatori che sul foot impazzano perché ora ovviamente siamo alla fine, quindi ci sono tutte le peggio carte e magari faremo anche una previsione se ovviamente siamo stata questa settimana, sarà quella dopo, con la speranza che ci sia l'amico Corvo Bianco che saluto sia in realtà di Verona e insieme anche a Gabriele che sono appunto degli amici, alcuni trovati appunti frequentando, bazzicando queste camere rosse che sono, o viola perché Twitch è viola e rossa invece è il buon YouTube, mentre altri credo di conoscenza già da tanto, ma andiamo avanti ragazzi, allora Lazio contro Como, la partitaccia perché la Lazio non è male come squadra, ma noi ormai siamo già con le antenne al match contro il Manchester United, semifinale di Cempio, qualcuno avrebbe ipotizzato, ma devo essere sincero, qualcuno credeva che si sarebbe arrivati fino alla Cempio, fino alla finale di Cempio, semifinale finale no ragazzi, può guardarsi, tra l'altro noi ci troveremo molto probabilmente in finale il buon Real Madrid, intanto però giochiamoci questa partita come sempre andiamoci a vedere il nostro avversario, gioca allo stadio olimpico, perché la Lazio sapete è partnership di football, quindi prove da importe, Romagnoli e Minx e i due difensori centrali, Sousa e Junior, i due terzini, Fernandez che è il mediano con Basic e Samizier, che è il tedesco, anzi no, non so se svizzero o ostriaco, non lo so, poi Calvary Levins con Santos e Zaccani che sono i tre, praticamente le tre punte, perché lui ha punta centrale, mentre Santos e Zaccani gli aggirano intorno. Noi giochiamo con la formazione titolare, ecco, forse è il momento, eh vabbè, sarà il momento di far ritornare con molta, diciamo, tranquillità anche Yanonu, dall'altra Ose Yanonu è un giocatore che attualmente sta giocando nella formazione Komaska, altrimenti mi sposto, perché nella formazione Komaska sta giocando nella formazione Komaska e ha segnato nell'ultima domenica quel 2-2 spettacolare contro la Reggiana, quindi complimenti anche a Yanonu. Qui Real Madrid, promesso, si cambierà in qualche modo. Questa partita qui, allora, diciamo che siamo sempre in corsa per il titolo, eh, perché poi insomma, però, eh, ci crediamo non tantissimo, devo essere sincero, oh, mamma mia saponetta, eh, la saponetta, manca pochino, tanto vedo che si sta muovendo un po' a scatti, forse ha preso troppe patte la webcam, dicevo saponetta per chi, eh, magari è da poco che vede il, eh, il video del sottoscritto, eh, è il soprannome che ho dato al, al nostro, eccoci, saponetta, non l'ha nemmeno vista, al portiere Schuffete che comunque ha fatto una grande stagione, però siamo già sotto di un gol, dicevo, eh, ci si crede, non ci si crede molto al campionato, ma si punta tutte le nostre risorse sulla Champions, anche se siamo secondo posizione, anche se la Roma ora ci sta scassando un pochino perché è dietro di noi. La Juventus è un po' rallentato, forse anche in virtù della Coppa che non gli è andata molto bene, eh, la Juventus. Tanto noi qui non ci si avanza nessuno. Dagliela. Mamma mia, Ugello, te. Mamma mia, come sta a gioiello? A Ugello, veramente, guarda, ragazzi, la vedo, addio. Eh, a Ugello, meno male, fa la doppia fase. Mamma mia, ma c'era solo lui, poteva solo appassarla a lui, la vedo dura. Bravo Schuffete, bravo Saponeta, tanto un po'. Ah, stavo guardando là. Allora, vedete, 69 punti noi, la Roma 64, 73, però se si perde i colpi non si potrà mai raggiungere la Juventus. La Juventus è che si appresta a vincere, addio. Meno male l'ha presa, però con la seconda mano, perché lui, va. Dicevo, l'avvento si sta, diciamo, si sta veramente, addio, addio, chi si pigliano appallonate, bimbi, eh, ci pigliano appallonate. Eh, questi vanno via, me li pare. Allora, a Saba. No, non è uno. Dagliela. Vai Ciccio, vai Telefo. Eccolo, e vai, 1-0. Cioè, 1-1, 1-1, delle Feu, delle Fo, ma come siamo siamo. Abbiamo pareggiato, grande però. Ecco, questo è un altro giocatore che ha fatto una strepitosa stagione. Non mi ricordo chi è che suggerì. Ecco, è bello sto via, la sua avanza. Ma molto branea, molto bravo anche a Sabalonga che fa ripartire da una posizione che non è per lui consona, ovvero la difesa, la squadra. Quindi bravi tutti quanti. Riprendiamoci di questa partita. La Lazio che comunque è in zona, è un pochino fuori dalle coppe per il momento. Insomma è sempre per la squadra. Tutto. Eh, guarda, si fa un po' a vuoto, eh. La difesa sta andando un po' a vuoto. Andando a vuoto. Ah, no, sì, ma cara, stava a guardare. Ah, ma non ce la fa più. Dovevo sostituirlo già all'inizio. Dicevo, ma il portiere stava a guardare. Io non lo so, poi. Vai Ugello. Bravo. Ma bravo cosa? Bravo. Mio benedetto Uge. La squadra è un pochino pesantita. Portiere. Bravo Saponetta. Andiamo, andiamo. Vai Cortinovis. Vai Ciccio, vai. Ma io domande di Dio, ma come vai a passare così? Roba da torta. Roba da gatti pratici del muso. Un minuto di extra time. Allora, guarda, provo. Se non so se l'ho portato a un panchina, io nonno. Faccio cose troppo alla sverta. Comunque 1-1, ma squadra veramente così. Tanto il Milan, nel derby della Madonnina, strapazza momentaneamente 3-1 l'Inter. Augello non ce la fa più. Vediamo un po'. E ovviamente non l'ho portato. Allora, mettiamo Clark, dai. Mettiamo Superman. Clark Kent. Ho detto a capo a Sabalonga. Non ce la fa più, ragazzi. Sabalonga è anzianotto. Mettiamo lui e poi vediamo. Taylor. Tra l'altro, se Taylor in queste ultime partite non ha sfigurato. Sabalonga... Eh, vabbè, dai. Ma come si fa, eh? Questo si vede quando la squadra è veramente al burro. Allora, non ci arriva nemmeno... Allora, questi ci hanno il pepe sulla oda. Oh. Dagliela, corri. Vai, vai in porta. Vai in porta. Oh, lo vedi. Adama segna. 2-1. Rimonta. Completata. Sì, ma quanta fatica. La difesa della Lazio è stata di un lento peggio di una... Veramente, di una delle peggio squadre ovvie. Guarda, guarda. Adama poi è stato velocissimo e segna il suo ennesimo gol. Poi vedremo un pochino i gol che questi giocatori hanno fatto in questa stagione. molto i nuovi, eh? Ora cerchiamo di mantenerlo perché... Bravo! Vai Cortinovis! Vai Adama! Adama! Smarcati! Ma porca miseria! Bravo! A lui da solo! Ma come... Potevi dire Adama? di avere le idee molto chiare su cosa fare ogni volta che riescono a ripartire. Occhio al filo della bandierina. Eeeh... Si è trovato lì a caso! Si è trovato lì a... Chi è questo? È Taylor! Si è trovato a caso lì! Che gol a caso! Stavo zitto perché voleva più fino a che le bische Taylor! Taylor dentro! Taylor c'ha il... Lui, no? Sì, sì, è Taylor! C'ha il braccio! C'ha la gamba sensibile! Si è trovato lì, eh? Voglio rivedere il sfogo qui! Ma si è trovato lì! Guarda là! Guarda! 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 Qui! Tiro! Boom! Ha passato il difensore! Lui poi ha detto... Signori! Se mi mettete sulle gambe... un dolcetto così non lo posso, ovviamente... Oh! Vai! No! Cortinovis! Tanto se... Abbiamo ripreso una partita bruttissima! Mamma! Adesso vi è fermo! È fermo! Cortinovis! È fermo! È fermo! Un vede l'ora di fare la doccia! Un vede l'ora di fare la doccia, Cortinovis! S! Aio! 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 È che sapevo! Autogol! Clamoroso! Autogol clamoroso! Cortinovis! Mi fatti ce la fa più! Chi l'ha fatto con... È fatto gol per conto suo! Ma si vedeva lottano un mio! Non si perdeva nemmeno una palla! Guarda là! Chi l'ha fatto questo? Autogol clamoroso! 5 chi è? Il 5 è... È coso? Dio l'ha... Ha anticipato! Vai! Bella, bella, veramente! Clark! Eh, Superman! È arrivato troppo veloce! Comunque Acosta è in campo al posto di uno spento Cortinovis che... Sì, qualcosa ha fatto, ma... Insomma... L'importante ora è portare a casa 3 punti, eh! Ragazzi, questa partita qui è una partitaccia! Anche il campo ci sembra... Aumenta il divario, conducono ora per 4 reti a 1... Dai, gliela, vai! Bravo, ciccio! Vai in porta! Va a correre, eh! Ma perché non andava? Ma intanto, ragazzi, il pad... Anche con... Nella... Su foot, ragazzi, alcune volte... Pallone recuperato pericolo! Eccolo! No! Cosa ha preso? Cosa ha preso Provedel? Porca la miseria! Era botta siura, eh! Brotta siura! Niente! Via! Ancora 3 minuti da giocare! Mano? Traoré era al burro! Manco perché non andava! Era al burro! Mancano 2 minuti alla fine! Entra Zaha! Grande giocatore! Zaha! La dama prende il posto Arnold! Anche lui! Diciamo un buon... Un buon ricambio! Ma ecco, io Dio... Ma che fa Bellemo? Ma perché non tirava in porta? Meno male, vai! Abbiamo espugnato l'Olimpico! Ma quanta fatica! Quanta fatica! Quanta fatica! Troppa fatica! Troppa fatica! Comunque, dai! Una Z... 3 a 2! E 3 punti portati a casa! Con la speranza che la Juventus Pesti qualche partitaccia! La Pesti, come si dice! Taylor, grande gol! Ma grande gol anche di Coso! Grande gol anche di... Chi è? Abubakar! Grande gol... Autogol di Clark! Quindi l'Inter perde malamente il debit contro il Milan! 4 a 2! E noi momentaneamente in questa... Non so se è un posticipo! Non guardiamo! Non guardiamo la fine dell'episodio! Ci siamo tra la Salernitana! Sono pericolose queste partite qui! E poi, ovviamente... Ci sarà la... La Coppa! Quindi, facciamo un po' riposare qualcuno! Allora, gestione della squadra! Augello lo mettiamo in panca! Mettiamo... Dov'è qui? Yanonu lo mettiamo qui! E lo mettiamo... Lo facciamo giocare! Perché è vero che... Augello e Yanonu... Poi, io direi... Bellemo lo facciamo riposare... E poi ci si mette a costa! Facciamo un po' riposare questi giocatori! Poi, di punta... Di punta... Di punta... Io metto Villa Nueva... Al posto di... A Sabalonga lo facciamo un po' riposare! E anche Abubakar, ragazzo! Cambio clamoroso! In maniera tale che ce la serviamo per la partita! Mentre non posso... Non posso! Traoré, dai! Anche Traoré lo mettiamo in panca! Dai, Traoré! E ci mettiamo Arnold! Mmm! Traoré e Arnold! Lo facciamo un po' riposare! Delefeo o no? Quest'arte lasciamo lì! Sta così! Bellemo! Poi, se c'è bisogno, giocheranno! Altrimenti no! La Sardegna si presenta con un 3-1-4-2 Canezeghi in porta! Sagnan, Daniliuc e Bogdan, difesa a tre! Koulibaly mediano, Koulibaly... L'altro Koulibaly centro-ampista con una costa, fratello della nostra costa! Poi, Boltman e Rodriguez sono le due ali di punta! C'è Jackson e Aceppapong! Squadra che questa sta, appunto, lottando per non retrocedere! Però, ragazzi, questa è una partita di preparazione a quella più importante che ci sarà, ovviamente, questa seconda partita! Jackson! Niccolo e Jackson, no, stanno sbagliando, perché questo qui non è Jackson, questo è Delefeo! Dicevo, mi raccomando, martedì prossimo, sintonizzatevi! Perdonatemi, mi sto attorcigliando, ora sta un po' più freschino, ma sarebbe sta meglio! con il canale Pincipassioni Games, perché si torna in campo nella Champions, quindi episodio importantissimo, perché potrebbe essere in là, se facciamo una grande partita d'andata, come abbiamo fatto contro l'Atalanta, nel tutto il precedente, da vedere se non l'avete visto, c'è una prelizia dedicata, ci sono tutti gli episodi di questa cavalcata, dicevo, appunto, poi magari potrebbe essere l'antipasto, vedremo poi un episodio speciale se si va in finale, eh! Allora, noi, è vero che giochiamo con riserve, con quasi tutte riserve, saponetta, porca miseria, saponetta, pigiale, blocca le veste qui, porca la miseria, adesso, ma come si fa un bloccarle, de', boi, in realtà ragazzi, de', ma un blocca la massa, è vero c'è, eeeh, alla Sanitana, ovviamente, noi, ragazzi, capisce tutto, e traccetta bene il passaggio, grande, doppio passo, vai, vai ciccio, sei osso? uh, ha fatto una barba a pace, ha provato, guarda, ha fatto bene, ci ha provato, capo scivoloso, ha fatto la barba al palo, forse è per quello che saponetta gli ha scivolato per l'ennesima volta la palla, eh, può darsi, tanto, diciamo, il, sono tornati, stavano facendo due conti prima della gara, abbiamo visto che potrebbe arrivare già oggi per loro la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, hanno bisogno di una vittoria per chiudere definitivamente i giochi, e hanno tutto quello che serve per centrare l'obiettivo, sarebbe un peccato non sfruttare questa occasione e rimandare oltre i festeggiamenti, buona qui la lettura del difensore, oh, madonna raga, ma cos'è, scivoloso? colgo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, si gioca malissimo, malissimo, si deve sempre prendere il gol del cavolo, chi ha fatto il gol? Jackson? no, c'è Pampong, c'è Pampong, ha lasciato scappo al portiere, lo ha fatto secco con un preciso un po' con l'interno, ed ecco dunque, arrivato il primo gol dell'incontro, 1 a 0, europeo, il tifosi voglio nel tiro, no, Taylor, no, che caso, aio, aio, ma cosa ha preso de, cosa ha preso, fa delle parate che sono, una volta clamorose, va da solo, va in porta, e però, di cavolo, Arnold, ancora pongono a giocare in questa prima frazione, con la strada di Carla, cazzo del gol del Bari, la differenza tra le due squadre minima, potevano essere loro davanti, e non ci sarebbe stato nulla da ridire, dunque, vietato prendersi d'animo, vai in porta, vai a costa, per un'occasione grande questa, oh, grande a costa, grande a costa, 1 a 1, alla fine del primo tempo, poteva fare anche il pallonetto, ma non usciva il portiere, 1 a 1 però ragazzi, 1 a 1, con gol di a costa, alcuni te ne hanno a costa la porta, altri diranno, ma lui, a costa, praticamente ha perso il posto in squadra, come titolare, perché era inammovibile, da quando è arrivato il cortinovis, però, secondo me, a costa, facendo le due fasi, la difensiva e quella offensiva, è decisamente migliore, secondo me, però, vabbè, Brian segna il suo ennesimo gol, in campionato, vai ciccio, cerchiamo di vincerlo anche Vesta, bravo a capo, un minuto di recupero, terreno, c'è Villanueva lì, da solo davanti, poveraccio, giovanissimo, però non Real Madrid, siamo gemellati, come sapete, ve l'ho detto anche negli episodi precedenti, siamo gemellati, con il Real Madrid, tanto lecce vince a Firenze, ma ci interessa giusto, qui sono tutti al burro, ma si giovanne anche a campaccio, l'arbitro dà il via, alla seconda metà della gara, ah, a capo, no, no, è Yanonu, no, mamma mia signore, ma cosa fa? e zoppolo, vedo lì, io ero in campo per ora, giocata di qualità, per intercettare il pallone, anche sfortuna, no, no, guarda va, ti è rimasto lì, si fa vedere in avanti, no, Yanonu, mamma, sei la ripiglia a una, eccoci, bravo, complimenti, buono qui, recupero del pallone, vai su, dio, buono, buono, recupero la palla, occhio più al contropiede, la difesa è messa male, ottimo il lavoro di difesa, bravo, bravo, no, Arnold Traoré, no, 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 ma mai facciamolo riposare, ragazzi, noi, io preferisco, diciamo, dare tutto il gemme, perché la Juventus, non so, 4-5 punti, ma non le pigli mai, contro il grande livello che vi racconteremo in diretta sui canali di EA Sports, mi aspetto un merito giocato un risoperto da entrambe, hanno diversi giocatori di qualità, in grado di qualità, puoi giocatori, puoi giocatori, eh, eh, ciccio, e qui si allargano tutti, meno male, va, cortinovis, Siamo giocatori che, con questo terreno pesantissimo, no, Janonu, ragazzi, da rivedere, in panchina, via, a caso, a caso, a caso, a caso, baci, vai, a nord, sei velocissimo, che gol a caso, questo qui, che culo, ecco il più carino, che gol a caso, questo qui, sempre lui, lo spagnolo, il mister, 2-1, all'ottantesimo, che brutta partita, però anche questa, però dai, anche se è brutta partita, ma guarda là, guarda là, che sbucciore lì, di Villanueva lì, e poi arriva, ma anche la difesa della, Salernità, da rivedere, arriva lui, bello, bello, 2-1, Gerard Delefeu, o come si chiama, ma non mi interessa, lo spagnolo, dalle 1000 S, vai ciccio, dai, 2-1, questo è culo, eh, se ne è presa una, epa, si può sempre aver questo culo, eh, ma guarda là, non si muovono, non si muovono, oh, oh, mamma mia, nooo, capisce tutto, e le piglierebbero una, lui, porca, la prende tutte, ma poi non le blocca, niente, Acosta esce, la Salernità non se lo merita, la sgonfitta, ce la fanno più, chi esce, Acosta, Cortinovi, se no, ragazzi, concludiamo la partita con questi, eroici, e a Yon, e a Yon si muove nemmeno, eh, ma porca, ma era solo, per l'altro, meno malo, che vittoria, fortunosa, questo è culo però, questo è culo, si può dire diversamente, comunque dai, ci siamo portati a casa un'altra vittoria, sotto la pioggia, con le squadre, diciamo, con tante riserve in campo, abbiamo fatto ripostare, praticamente, gran parte dei giocatori, però, ragazzi, eh, ci abbiamo un Gerard, delle Feu, che non possiamo rinunciarci, potevo metterci un altro giocatore, ha segnato il gol del 2 a 1, all'ottantesimo, recuperiamo una partita, veramente brutta, eh, però, portiamoci a casa questi tre punti, baffancufia, intervista anche no, lui il migliore in campo, la Feu, riesce ad agguantare, siamo il 25 aprile, agguantare il pareggio, vediamo un attimino, la classifica, tanto, e poi, ci salutiamo, allora, cambia la serie A, vediamo un po', allora, il Como, ciao, zitti zi, vabbè, c'è una partita in più, vabbè, con la partita in più, noi abbiamo, eh, 75 punti, un punto dalla Juventus, quindi, sicuramente diventeranno 4, perché la Juventus non perderà un corpo, però, ragazzi, siamo lì, ci mancano, praticamente, sicuramente, dunque, 19-39 partite, 19-38, 4 partite alla fine del campionato, quindi, abbondantemente riusciremo a finirlo, prima della fatica data del 22, poi magari ci diventeremo in qualche altro modo, però, dicevo, vittoria, vittoria del Como, che siamo arrivati a 23 vittorie, su 34 partite, 6 pareggi, 5 sconfitte, gol segnati, 76, siamo la squadra, siamo la Juventus, che ha segnato più di tutti, però abbiamo una partita in più, e 34 i gol subiti, non siamo la migliore difesa, che è sempre la Juventus, 42, la media inglese, la media inglese, scusate, la differenza di rate, 75 punti, ragazzi, molto probabilmente, miglioreremo anche il, eh, diciamo, lo score dello scorso anno, giusto, così, siamo di nuovo riqualificati, siamo di nuovo riqualificati, alla prossima Champions, perché? Perché sostanzialmente, la quinta squadra, che è l'Inter, ha 15 punti in meno di noi, e quindi, con 4 partite, massimo sono 12, l'Inter un cipiglia più, eh, tanto la Lazio, eh, è fuori, momentaneamente, la Fiorentina, prepotentemente, è dentro, eh, il giro europeo, con il sesto posto, questo per la gioia di, Gabriele, che è saputo, come sempre, che è uno dei più presenti, sul canale, se non forse, il più presente, ragazzi, che dire, settimana prossima, si torna con martedì, un nuovo episodio, ci giocheremo la Champions, quindi, ci avremo a giocare la Champions, 4 partite di campionato, per vedere se magari, nella volata finale, si riesce ad agguantare la Juve, sono da recuperare, potenzialmente, 4 punti, vediamo un po', però, se, vediamo, eh, perché, può darsi, ecco, vediamo un po', classifica, dovrebbe aver giocato, vediamo un po', la Serie A, e ovviamente, ovviamente, la Juventus, ha vinto, quindi, 4 punti da recuperare, della Juventus, questa è la classifica, la fotografia, della classifica, che appunto, ci vedrà poi, come punto di partenza, per il martedì prossimo, ripeto, questa settimana è anche la prossima, giocheremo, martedì e giovedì, con FIFA, poi, vediamo, se finiamo, poi, ovviamente, saranno, come minimo, altre, la settimana prossima, che sono, in teoria, dovremmo finire il campionato, la settimana prossima, e, e poi, se c'è la Champions, magari, si allungherà di un'altra settimana, ma, insomma, poi, vedremo cosa potremmo fare. Adesso, il mio canino mi sta reclamando, io vi saluto, e vi do appuntamento a martedì. Ciao, iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi.